Oggi nel Team Music Studio abbiamo una gang che distribuirà caramelle con i gelati e quant'altro Dark Polo Gang qui da noi. Che abbiamo fatto? Abbiamo ascoltato tutto il disco, abbiamo parlato dei brazi, abbiamo fatto un'intervista per Team Music Sghere e quindi se volete sapere degli aneddoti, curiosità su come è nato questo disco monetizzato, questo mixtape monetizzato andate tutti a sentire il disco Team Music e a vedere l'intervista che abbiamo fatto quest'oggi Se no si è un buffo 3, 2, 1 Sghere! Aiii Posso dire una gara? A me stasera il monetizzato così Arrogante Sembra che vogliamo guaisarti alla gente No, perchè vendete arte No, però Alla fine avevo detto un mixtape monetizzato Vabbè comunque c'è stata questa discussione, andate a sentire nell'intervista come è venuto fuori questo tema Fatelo Fatelo Aii Monetizzato Fatelo 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 Grazie a tutti.